Il decreto rilancio non c'entra niente con rilancio, questo è il punto che vogliamo migliorare. È un decreto rilancio senza rilancio, è una legge omnibus, una specie di legge mancia, cioè le leggi nelle quali si distribuiscono marchette a destra e a sinistra, prebende, poltrone, consulenze. Io credo che non ci fosse bisogno di questo. Noi abbiamo messo a disposizione del governo 80 miliardi di scostamenti di bilancio, 55 di decreto rilancio, per fare fondamentalmente le cose emergenziali delle quali c'era bisogno. Secondo me sono tre, difendere i posti di lavoro, sostenere le imprese e il lavoro autonomo e aiutare le famiglie e chi è maggiormente in difficoltà, i più fragili. Queste tre vicende avevano bisogno di forse 10-12 articoli e non dei 266 articoli di cui consta il decreto rilancio, che non sono 266 articoli che servono per far arrivare i soldi alle famiglie e alle imprese, ma servono per dare le consulenze a patuanelli, per pagare i voli di Stato in business class per l'expo di Dubai, per istituire 30 nuovi fondi da spendere discrezionalmente per il governo, per moltiplicare le poltrone, modificare i consigli di amministrazione. È assolutamente irresponsabile in un momento come questo fare una legge rilancio del genere che non farà arrivare un euro agli italiani, ma che servirà solamente al governo per rafforzare il suo potere. Grazie.